ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video oggi mi è arrivato un pacco da un'amica francese che contiene delle serie rarissime ragazzi rarissime e introvabili adesso cerchiamo di aprire nella maniera più sicura il pacco senza danneggiare il contenuto e qui ci sono le serie super super rare allora qua tiro tutto fuori che spettacolo mamma mia guardate un po già vi faccio dare un'occhiata kit cat hercules guardate qua che spettacolo tolgo la scala sistema la fotocamera tolgo il cortello e partiamo dalla prima due peluche di shrek che fanno parte di questa serie qui ragazzi realizzata dalla pampers una serie della pampers ragazzi composta da due pezzi due peluche di shrek e ciuchino e questo è il cartone che funge da checklist meraviglioso spettacolare adesso diamo uno sguardo a shrek e al ciuchino ecco qui shrek eccolo qui dal film dal film shrek terzo e questo ancora nella busta originale è originale è ciuchino spettacolari 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 riprendiamo quello che avete visto che avete intravisto prima ossia lui eccolo qua kit kat la serie di hercules allora questa è la bustina stiamo ancora meglio la camera vedete questa è la checklist e qui dietro c'è l'altra bustina me ne ha mandate due eccola qua beh non la dirò fuori tanto è la stessa l'avete già vista e questa è la serie eccoli qua tutti i belli incartati sono in gomma guardate un po hercules film della disney e non sarà l'unica cosa che arriverà sul canale di hercules della disney arriverà un'altra cosa super rara e molto molto costoso un'altra serie allora mettiamo via anche hercules l'abbiamo visto non è finita qui eh non è finita qui poi ci sono due personaggi di toy story anche essi sono una serie completa anche se sono solamente due un po come quelli della pampers ancora nelle loro bustine originali e questa una serie dell'energizer ecco qui voody e buzz light ear guardate un po che spettacolo belli bellissimi in plasticatura loro invece sono stati realizzati in plasticatura e infine abbiamo questa qui del re leone che invece è della lion e ha anche il gioco comprende anche il gioco questa serie adesso facciamo uscire tutto con delicatezza ecco qua il foglio pubblicitario la bustina che conteneva i lion e le figure del film la checklist di dietro questo l'abbiamo già visto il foglio pubblicitario questo è il tabellone di gioco che è contenuto qua dentro eccolo qua il tabellone di gioco e questi invece sono tutti i personaggi della serie ecco qua guardate che spettacolo ragazzi se non volete perdervi questo e tanti tanti altri video di questo genere non solo iscrivetevi al canale sorpresine minifigure lego playmobil kinder san carlo cric rock action figure figurine cats wrestling di tutto e di più yugioh ragazzi iscrivetevi al canale pokemon poi arriveranno anche quelle magic arriveranno le recensioni dei film le serie tv delle anime ho già aperto la playlist la storia dei cartoni animati e sarà ampliata con nuovi nuovi video detto questo ragazzi io vi saluto vi invito ad iscrivervi al canale ancora una volta lasciate un bel mi piace a questo video commentate questo video condividete questo video e noi come al solito ci becchiamo al prossimo video ciao belli